Master, da M35 a M50, inizia con voi il campaccio 2013, preparatevi, scaldatevi, siamo a pochi minuti dalla partenza. Il primo passaggio dovrebbe essere Bambina, il bravissimo Master di Dtoni anche nelle prime posizioni, e questi sono Master con gli occhi perché vedete come vanno veloci, 3,18 km passeranno di qui intorno ai 6,35-6,40, una natura notevole per degli aspetti Master. Master, da M35, bravissimo, è buono, è stretta, notevole per questa peta di casorate, e poi al suo eseguimento troviamo sia Bramilla che Bellissoni, Brazzini 6,32, Bellissoni e Bramilla e Pifferi 6,40, e poi sia via degli altri, quinta posizione per Vasi con Sanocchi Guardate che gli applausi fanno bene, più li sosteniamo, questi meritano un capo di applausi per la loro passione, forza Master, sai che il primo giro è andato, bravi, forza! La carica dei Master in questa prima gara del campaccio, forza ragazzi! Dai ragazzi, forza! Dai, 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 c'è l'unica, forza! Forza, forza! Ciao, wiele, forza! con le altre tantimenti sulle quattro condizioni di lavoro che si tratta di non male forse ragazzi ciao grazie a le statistiche di Giorgio Chrysler pensate che il ventesimo del campaggio assoluto dello scorso anno è passato in 6,24 questo massimo è passato in 6,32 quindi corrono tutti forti dai, facciamo lì dai, dai, dai passaggio continuo di Atleti Master forza Michele Romanini la Oscona, forza dai, 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 bravo dai, bravo alè qualcuno ha mangiato che era il film e Luca ha fatto il bambino ciao, forza e intanto sta arrivando il nostro atleti 45 e 3.000 ma tra poco il passaggio al quarto chilometro scaldiamolo con un bel applauso Ale Maurizio è nato nel 1906 ha fatto 6,33 i secondi chilometri grande Maurizio gli applausi del pubblico del campaggio eccolo qua Maurizio Frassini Atletica Scalcolate Let's go ci